tempi di bilanci per il turismo in forte tendenza al rialzo le destinazioni verso l'albania un trend che nel 2022 ha visto oltre 600 mila visitatori censiti quest'anno pare che siano già raddoppiati il motivo di questo successo l'accessibilità dei prezzi il mare che ricorda le nostre località più chic gente simpatica e accogliente ottima cucina e soprattutto parlano italiano non scendendo nei particolari ma nelle località intorno a valona due lettini e sdraio si possono ancora trovare a 6 euro naturalmente a saranda e xamil la musica cambia come nei posti più esclusivi la sera il lungomare di valona si riempie di mille luci e musica in lounge bar e ristoranti di grande pregio da visitare il centro storico sempre pulitissimo e accogliente con tantissimi locali l'albania sta vivendo un momento di grande fermento di grandi costruzioni infrastrutture e di alberghi di importanti catene alla conquista di questi turisti sottratti all'italia e grecia noi ci siamo stati e ci ritorneremo